12.455 visitatori in quattro mesi. Sono questi i numeri della mostra a Genovesino, natura e invenzione nella pittura del 600 a Cremona, promossa dal 6 ottobre al 4 febbraio scorsi dalla Pinacoteca, nell'ambito delle celebrazioni monteverdiane. 1.516 partecipanti ai concerti, 130 gruppi organizzati, 73 le scolaresche, oltre 7.800 i cremonesi. Dei restanti, la maggior parte proveniva da Milano, Brescia, Bergamo, Mantova, dall'Emilia Romagna, ma non sono mancati i visitatori dall'Europa, soprattutto dalla Francia e da oltre Europa, soprattutto dalla Russia. Tra i volti noti che hanno visitato la mostra vi sono la storica dell'arte Mina Gregori, i critici d'arte Vittorio Sgarbi e Flavio Caroli, il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli e l'attore Dario Cantarelli. Ampia la visibilità data alla mostra dalla stampa nazionale, nonché in contesti internazionali quali presso la Masciata Italiana Vienna e la Fiera del Turismo di Berlino.